cari ciclo lettori e cari ciclo elettrici prima che lo pensi qualcuno di voi non c'è un camiciaio che mi ricatta obbligandovi a mettere le sue creazioni e che riesimo delle camicie di 20 anni fa l'indosso con nonchalance dimostrazione che la mia forma fisica è rimasta quella di quando ero in berbe oddio in berbe non sono mai stato libero del mese che dire ancora di chissà che l'utopia non vinca di bidon che dire che non già detto nelle scorse settimane per esempio che vi mandiamo uno dei portachiavi di ciclo web portachiavi ufficiali se ordinate il libro l'ho già detto sì l'ho già detto l'ho già detto che ve lo mandiamo in spedizione gratuita come tutti gli altri prodotti del nostro e commerce store.cicloweb.it sì anche questo l'ho già detto che altro l'ho detto che è un libro bellissimo divertente pieno di cose sì l'ho già detto ho detto praticamente tutto di questo libro una cosa che non ho detto riguarda una promozione che abbiamo in corso e cioè se comprate due libri sul nostro store avete diritto al 30 per cento di sconto su una delle nostre t-shirt se comprate tre libri avete diritto al 50 per cento di sconto su sempre su una delle vostre t-shirt vabbè io me la butto lì se avete proprio voglia di fare grandi acquisti bibliofili una cosa invece che non ho detto del libro è che questi ragazzi di bidon oltre ad essere bravissimi a scrivere competenti e tutto quello che vogliamo hanno anche un'altra dote che me li fa apprezzare ancora di più e cioè che si prendono poco sul serio o meglio non si prendono esageratamente sul serio ecco sanno usare la leggerezza anche e questa è una cosa che emerge anche nel finale del libro con la storia di fiammetta ruio che firma l'ultimo racconto del volume l'impresa l'impresa di gianni giangallo e questo personaggio fiammetta ruio un personaggio un po misterioso questa giornalista sarda sulla cui esistenza insomma c'è anche un po un alone di mistero e niente come fare a saperne di più di lei che è bravissima bisogna leggere chissà che l'utopia non vinca ultimi arrivi disegno un po retro questa settimana cominciamo da un volume molto bello di edici l'editore molto bello già a partire dal formato orizzontale con copertina cartonata già bello solo da vedere in libreria nella vostra libreria i sarti italiani della bicicletta ad opera di paolo amadori e paolo tullini un libro che ripercorre l'avventura diciamo proprio l'epopea dei grandi costruttori italiani di biciclette costruttori che hanno segnato un'epoca gli anni 60 70 in cui dominavano il mondo ma hanno lasciato un'impronta profonda fino a oggi comunque sono l'empireo della del grande artigianato legato alle biciclette si parte da faliero masi che costruiva i telaie per coppie si arriva poi a cinelli col nago de rosa i grandi costruttori ogni ogni ognuno delle loro creazioni a una pagina con la scheda e la bicicletta con le misure rette veramente un libro magnifico gianni torriani l'ultimo patron vincenzo torriani una vita per il giro per ancora edizioni gianni torriani il figlio di vincenzo uno dei figli il primo genito e questo libro ripercorre chi meglio di un figlio insomma può narrare la storia di un genitore ripercorre appunto la vicenda di vincenzo torriani figura che non esito a definire anche questa leggendaria perché insomma che carisma può aver avuto un personaggio del genere che ha poco più di vent'anni dopo la guerra prende in mano il giro d'italia e lo accompagna nei decenni non trascurando sempre di innovare di portare cose nuove a me dispiace veramente di non aver avuto a che fare con lui di non averlo conosciuto purtroppo sono arrivato tardi lui aveva già smesso di essere attivo quando io ho cominciato a occuparmi di ciclismo però insomma questa immagine di lui che spunta dal tettuccio dell'ammiraglia immagine che campeggia anche nella copertina del libro è un'immagine iconica del ciclismo e chiudo con a colpi di pedale la straordinaria storia di gino bartali scritto da paolo reineri per ave edizioni quando dico ave proprio quel tipo di ave è una casa editrice romana cattolica fondazione apostolicam actuositatem io che sono mangiapreti che ci faccio con questo libro in mano beh è un libro molto bello devo dire un formato quadrato un libro adattissimo ai ragazzi ai giovani perché nella prima parte c'è la storia a fumetti del con disegni di valentino villanova di una fase particolare della vita di bartali e cioè la guerra il periodo della guerra quando lui allenando si portava documenti per salvare gli ebrei dalla deportazione è una storia che è venuta a galla negli ultimi anni negli ultimi tempi non è stata nota per tanto tempo è una storia eccezionale ed è molto toccante anche proprio vederla rappresentata in fumetto veramente regalatelo questo libro ai vostri figli o ai vostri nipotini lo apprezzeranno molto e poi c'è ovviamente tutta una parte invece in cui si passa dal fumetto alla lettera scritta in cui si racconta appunto questa questa vicenda della guerra e poi la biografia di bartali più prettamente ciclistica e alla fine c'è pure un intervista a vincenzo nibali naturalmente non mancano i riferimenti al fatto che marta insomma era noto come il pio gino era molto vicino agli ambienti cattolici è un libro edito da ave non può mancare di fare questi riferimenti però insomma ci sta in questo caso il libro che vi recensisco oggi è una chicca assoluta ve lo dico cronache del primo giro d'italia 8 900 edizioni introduzione di armando paccagnini presentazione di umberto colombo il senso il contenuto del libro lo spiega già il titolo cronache del primo giro d'italia sono gli articoli prelevati dalla gazzetta dello sport del 1909 dai numeri di quel maggio e ripubblicati ed è un viaggio fantastico in questa storia gli articoli sono a firma di magno che era lo pseudonimo usato da eugenio camillo costa magna uno dei fondatori della gazzetta e armando cugnè armando cugnè era il direttore del giro ma nasceva giornalista e quindi scriveva anche le cronache emergono mille cose da queste da queste pagine emerge il fatto che quel giro quei giri diciamo travalicassero di gran lunga l'aspetto sportivo della competizione agonistica e andassero proprio a interessare le masse in quanto avventura straordinaria eccezionale picaresca era proprio un'avventura fuori dagli schemi chi aveva mai visto una cosa del genere questi pazzi che giravano l'italia in bicicletta era una cosa molto proiettata nel futuro è un'altra cosa che emerge appunto legata a questo fatto del futuro è il linguaggio che è quasi futurista potrei dire comunque tu ti aspetteresti un linguaggio paludato da queste cronache perché stiamo parlando degli inizi del novecento è un linguaggio sorprendentemente moderno molto anche sincopato in alcuni in alcuni casi molto fresco bello veramente bello naturalmente ci sono delle cose un po retro ma questo è normale stiamo parlando comunque di 110 anni fa e si imparano comunque tante cose si vede l'ansia l'attesa con cui le folle aspettavano l'arrivo di questi corridori di cui magari non conoscevano nulla come era logico che fosse e si imparano anche aspetti che non diresti per esempio già dalla dall'introduzione di paccagnini scopriamo che le tappe si svolgevano questo lo sapevamo con dei giorni di riposo tra l'una e l'altra ma perché questo non tanto per dare l'occasione ai corridori di riposare quanto perché la gazzetta usciva tre volte alla settimana quindi lunedì mercoledì e quindi le tappe tendevano a svolgersi il giorno prima dell'uscita del giornale per permettere appunto alla gazzetta di stare sul pezzo di non farsi bruciare dai giornali rivali che magari uscivano in altri giorni o uscivano tutti i giorni e quindi quando noi oggi diciamo che lo sport è troppo succube delle televisioni questo magari vale più per altri sport però anche il ciclismo con gli orari d'arrivo delle tappe ci sono delle cose che sono legate proprio alla fruizione anche da parte del pubblico anche nei confronti dei media insomma nulla di nuovo già 110 anni fa era esattamente così lo sport andava a braccetto con i media anzi doveva sottostare alle regole dei grandi media cronache del primo giro d'italia un libro meraviglioso contro ai no peraltro c'era anche la cabala quasi tutti i campioni in modo particolare i francesi avevano clamorosamente perso nel loro primo assalto al giro non essendo riusciti a ottenere la vittoria ai no però non interessavano più di tanto nella cabala nei pronostici e neanche il tipo di percorso alla prima infatti non attribuiva alcuna importanza in riferimento ai pronostici decisamente sottovalutanti nei suoi confronti non assegnava loro particolare valore avrebbe risposto con i fatti a coloro che gli attribuivano le stesse percentuali di moser e saronni in realtà non si comprendono affatto le difficoltà di elaborazione di un pronostico facile e in linea con le forze in campo una previsione onesta e razionale avrebbe potuto suonare così ai no il 50 per cento di possibilità di vittoria un buon 40 per cento ai vari battaglini baronchelli contini e visentini il restante 10 per cento a moser e saronni dato il loro non particolare feeling con le corse a tappe pronostico semplice che nessuno però osò esprimere tutti sentenziavano moser saronni e no senza riguardo per le palesi differenze dimenticando che in osera già giudicato due tour 1978 e 79 e una vuelta 78 sul percorso infine basti dire che al breton e più di tanto non interessava egli sapeva di essere il più forte che stando alla logica la vittoria non avrebbe potuto sfuggirgli il 15 maggio 1980 il giro partì da genova con una cronometro di 7 chilometri vinta da moser il quale si imponeva con 4 secondi su klutzen 6 su ino 18 su saroni e 22 su battaglini saroni si aggiudicò con tre grandi volate i traguardi di imperia torino e parma mentre a marina di pisa si affermava dante morandi nella ponte della pisa quinta tappa cronometro di 36 chilometri il primo probante test la prima sfida tra i favoriti ino sul suo terreno preferito pensò bene di dare il primo colpo e infatti mise tutti al tappeto grazie alla consueta grinta e irruenza nonché alle sue acrobatiche qualità nell'affrontare le curve rese insidiose dalla pioggia non vinse la corsa a pannaggio del danese marcusen il quale gareggio con il sole ma si consolò con la prima maglia rosa della carriera e con distacchi significativi marcusen si imponeva con 14 secondi su ino 1 e 11 su visentini 1 e 14 su mosè 2 e 5 su saroni 3 e 31 su battaglini cambiavano da subito dopo cotanto show peraltro prevedibile le valutazioni sul francese nonché sul giro il francese diveniva il punto di riferimento e l'uomo da battere ino mosè saroni il ciclismo negli anni 70 e 80 libro di paolo voltan per piazza editore la paginetta della settimana